Ben trovati, questa settimana tocca a me intervistare la dottoressa Elvira Serra per la rubrica In Salute. Dottoressa, di cosa parliamo oggi? Grazie Gianni, questa nostra trasmissione seguitissima e oggi parliamo di lombalgia e di dolore sciatalgico, quel dolore fastidioso di cui soffrono molte persone nella zona lombare e che talvolta si allunga per tutta la gamba fino alla punta dei piedi. Questo tipo di dolore può dare anche impotenza funzionale, formicolii, non soltanto dolore, quindi una sintomatologia di tipo anche neurologico. Che cosa sono i dischi intervertebrali? Sono delle formazioni fibrotiche a contenuto liquido che si frappongono nella nostra colonna tra un disco e l'altro come degli ammortizzatori. Quando si ammalano e il loro nucleo polposo fuoriesce dalla sede in cui dovrebbe stare e allora è così che si parla di ernia. Difatti la definizione di ernia che cos'è? È lo spostamento, un'erniazione, lo spostamento del nucleo polposo dalla sua sede originale. Qual è il consiglio che diamo ai nostri telespettatori per ovviare a questo inconveniente? Allora diciamo che le strategie che noi abbiamo messo a punto sono delle strategie di terapia del dolore, di ozonoterapia, di riabilitazione fisica e stile di vita perché è un insieme di cose che ci mette in condizione quantomeno di combattere il nostro dolore. Dobbiamo distinguere una fase acuta in cui la riabilitazione non è strettamente indicata, poi quando il paziente ha fatto in modo di utilizzare tutte le strategie di tipo medico si può pensare all'intervento chirurgico ma l'intervento chirurgico se non è obbligatorio nel senso che possiamo risolvere diversamente può addirittura creare dei problemi e quindi ricorriamo a tutte le strategie mediche affinché si possa tornare ad una vita normale. Diciamo che poi nel tempo l'ernia del disco è una patologia che di per sé col tempo tende a migliorare ma il dolore è così forte che bisogna prendere immediatamente dei provvedimenti. Noi utilizziamo lo zono sia come terapia infiltrativa che come terapia sistemica.